Io sono pronta. Ciao ragazzi, sono Luca e in game mi chiamo Freddo. Gioco più o meno da 10-12 anni. Ho scoperto Apex in un periodo in cui non avevo più voglia di giocare al mio gioco precedente. Ho visto questa live di EA e ho provato il gioco e me ne sono innamorato. Il mio PG preferito è Pathfinder. La mia arma preferita è l'R99. Mi alleno più o meno dalle 4 alle 8 ore al giorno. Il mio team precedente era composto da Tuni che era appunto un player di Rainbow Six che giocava nei Penta e un altro ragazzo che si chiamava Aeon che era un player di Zula, sempre dei Penta e Sports. Il mio DRAW preferito è Market. Il mio player preferito è Shroud. Il mio streamer preferito è Atrix. Non ci entra niente però sì, mi piacciono moltissimo le live che fa su Ayrston eccetera. Io se la ragazza stava a casa sua l'ho aspetta. Sì? Sì. Non l'ho vista live quindi non lo so. Ok. Durante lo streaming non mi viene facilissimo performare perché è sia un fattore di concentrazione e anche un fattore di performance del PC in sé. Il mio primo gioco è stato Formula 1 2005 sulla PlayStation 2. Il Fortnite penso che sia un gioco che richiede molta skill perché ha questa tecnica del building che è molto difficile da masterare e quindi rispetto molto chi riesce appunto a arrivare ai livelli molto alti di competizione su Fortnite. Penso che siano dei grandissimi player a livello di meccanica e di skill ma penso che abbiano un po' di back in quanto riguarda nel decision making. Ciao ragazzi, faccio un saluto. Se volete seguitemi su Instagram, mi chiamo FreddoTB e in futuro ci potrete seguire tranquillamente nelle sport che si verrà a creare su Apex. Ciao. 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 Ciao.